Messaggio della Madonna 8 agosto 2020 Pace al tuo cuore Figlio mio, io vi chiamo a Dio e non sono ascoltata. Molti dei miei figli restano sordi alla mia chiamata e col cuore indurito alla mia voce, alle mie parole di madre. Molti mi oltraggiano con i loro terribili peccati e con le loro parole offensive e dubitano dei miei messaggi, screditandoli, allontanando così tanti dei miei figli dal cammino della verità. Se le mie parole, che dico con tanto amore e preoccupazione, non sono veritiere, le loro parole dette senza carità, piene di odio e in modo utragioso, sono forse piene di verità? Prega, prega, prega molto, oh umanità ingrata, perché terribili dolori stanno per cadere su di te e ti abbatteranno sempre di più, facendoti versare e amare lacrime per essere stata sorda alla mia voce materna. Uomini senza pietà, crudeli e feroci, attaccheranno la Santa Chiesa e Roma sarà totalmente distrutta. L'Italia verrà il calice amaro del dolore, perché ha molto peccato, ma non solamente essa. Anche molte altre nazioni saranno distrutte a causa della loro mancanza di fede, d'amore e di rispetto verso le opere sante di Dio. Sono triste, figlio mio, perché io ho parlato e vi ho chiamato a Dio e non sono stata ascoltata. Io vi ho donato tanto amore, tanti segni, tante grazie e tante benedizioni e sono stata disprezzata ed offesa. Dio non è contento. Placate la sua giustizia quanto prima. In caso contrario, dovrete supportare il peso del suo braccio potente e della sua giustizia in una forma terribile. Ti benedico, figlio mio, e tutta l'umanità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén.